Fiducia è una parola grossa, però continuo ad avere tranquillità da questo punto di vista, perché tanto il percorso io non lo posso modificare, quindi non è che mi posso sbattere, non posso sbattere i piedi per terra. Quello che è ci prendiamo, senza problemi. E ora la cosa che prosegue. Il romanzo criminale prosegue, non poteva finire questa puntata, invece visto che ha molta audience, come vedo, continua, faranno un altro supplemento delle puntate del romanzo criminale. Poi comincia la trattativa, poi ci sarà una cosa, il paese è la seconda repubblica, i rapporti con una cosa nostra. Stiamo in questo trip e ci stiamo, cosa volete? Che faccio qualcosa, qualche parolaccia? No, perfetto, allora prendiamo questo così come viene. Prendiamo la vita come viene, cari signori. Impariamo anche dai processi che cos'è la vita.